Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna, attento analista del cambiamento dei sistemi di welfare in Italia, già presidente dell'Agenzia per le ONUS. Quindi chi meglio di lei può aiutarci a capire come sta cambiando il mondo del non profit? In particolare, a suo avviso, il censimento del non profit può aiutarci a fornirci quegli elementi per ridisegnare le mappe concettuali che governano il nostro sistema politico ed economico, per trovare in queste nuove mappe una nuova dimensione per il non profit? Sì, la risposta è certamente sì. Questo censimento è veramente un'operazione che merita le attenzioni e il plauso che si deve a qualcosa che è veramente innovativo. È vero che dieci anni fa ci fu un altro censimento, ma nulla in confronto a quello a punto attuale. Perché? Perché conoscere, come ci hanno insegnato i grandi maestri del passato, è il presupposto indispensabile per ogni processo di evoluzione e di crescita. In Italia questo è vero soprattutto perché abbiamo il non profito del terzo settore che in relazione alla popolazione italiana è il più avanzato a livello mondiale, eppure i nostri soggetti, i nostri operatori non se ne rendono conto. Soffrono di un complesso di inferiorità tutte le volte in cui nelle sedi internazionali dove mi accade di essere presente per seminari, conferenze, dibattiti vari, lo posso direi registrare. C'è una inferiorità, come dire, quello che fanno gli altri è meglio di quello che facciamo noi, quando invece è vero esattamente il contrario. E tutto questo dipende dalla non conoscenza. Ecco allora perché questo censimento, quando avremo a disposizione le elaborazioni per le quali ci vorrà qualche tempo, dopo che si sarà chiusa la data di consegna dei questionari, servirà a colmare questa lacuna. Sull'altra domanda pure, direi che la risposta è altamente positiva, ed è che si apre oggi per il mondo del terzo settore una stagione nuova, dovuta al fatto che il modello di sviluppo passa da quello su cui oggi c'è consenso, e cioè la centralità della cooperazione. La cooperazione di cui l'impresa cooperativa è stata da sempre, cioè da 170 anni, l'iniziatrice, ma che si estende la nozione di cooperazione anche ad altri ambiti. E allora, siccome la soluzione cooperativa è quella vincente, ecco che occorrono soggetti in grado di veicolare questa categoria di pensiero e soprattutto la prassi cooperativa. E dunque, chi meglio e più soggetti del terzo settore sarà in grado di fare questo? Ecco perché prevedo nel prossimo futuro una nuova fase di crescita e di avanzamento di questi soggetti.